Ciao tifoso bianconero benvenuti nel canale Juventus Oggi. Iscrivetevi al canale, e lasciate un like al video. Per non perderti nessuna novità dalla Juventus. La Juventus finì per essere eliminata dalla Champions League ancora nella fase a Gironi, questo era un fatto che non accadeva da molto tempo. E dopo la sconfitta contro il Benfica che ha tolto alla Juve la possibilità di classifica. Allegri ha rilasciato una dichiarazione. Qualche parola di Allegri. Caduto ad alzarmi, anche io avrei voluto giocare l'ultima con il PSG per costringere il Benfica a vincere. La realtà è questa, concentriamoci sul futuro. Ho una squadra di ragazzi straordinari che non rinunciano a nulla, il calcio a volte diventa una prova quando si hanno delle sconfitte. La prima parte di stagione è stata più difficile del previsto ma abbiamo 20 giorni per fare bene, poi all'intervallo recupereremo quasi tutti i giocatori, il fallimento sono altre cose. Nel calcio ci sono altre cose, cadi per rialzarti, domani dovremo lavorare per pensare al campionato. Queste furono le parole di Allegri. Sei d'accordo con Allegri? Lasciaci un commento li vedo sempre tutti.